E allora partiamo e partiamo dallo sci, andiamo quindi con le immagini in Val d'Isère, domani tappa importante, speciale soprattutto per gli azzurri in caccia e soprattutto di una medaglia importante perché oggi è stata una completa delusione, Max Blardone che era arrivato terzo nella prima manche, si ferma invece giù dal podio e solo quinto, la medaglia d'oro invece va a Ianca. Marcello Cazzano, dopo la delusione, la brutta partita a Twickenham contro l'Inghilterra, l'Italia ospita l'Irlanda e ci sono parecchie novità anche di formazione. Marco Terrenato, parleremo di calcio e partiamo subito allora dal derby di Milano, andiamo in casa dell'Inter, brutta tegola oggi per i nerazzurri, si ferma infatti Maicon, vediamo. In vigilia, rossonera, anche qui una brutta tegola perché si ferma a Nesta, si era parlato di un probabile ritorno del difensore rossonero proprio nel derby, intanto però il Milan va a caccia di una vittoria che vorrebbe dire continuare a sperare nello scudetto. E il derby di Milano è sicuramente il clou di questo weekend calcistico, ventiquattresima giornata che si apre però con i consueti anticipi, alle 18 Lazio-Torino, allora sentiamo da Roma Monica Mattiolo e da Torino Alessandro Costa. Andiamo a vederci allora i gol di Bari-Vicenza-Sassuolo-Triestina con Luca Gregorio e Valentina Ballarini. Noi con questo vi salutiamo, prima ora torna lunedì. Grazie, buonanotte.